Eccoci, ciao! Allora, in questo brano andiamo ad analizzare Roxanne dei Police, è un brano nel quale puoi dedicarti a sviluppare la voce di testa oppure la voce di testa con un po' di mix, quindi rinforzando un po' il timbro. Infatti il brano lo puoi cantare proprio in questo registro, tranne qualche passaggio in voce di testa che comunque viene minimizzato per non far sentire lo stacco. Andiamo a sentire? Ok Ok Perché lo puoi creare passando di registro, però anziché farla in falsetto Vai a rinforzare Poi vedo in questo brano che lui adotta anche delle piccole distorsioni, magari sforzando il palato, diciamo, per creare queste simulazioni, diciamo, di sforzo. Insomma, in realtà, la grande maggioranza del brano, diciamo, è in un M2 mixato molto bene. Grazie a tutti